Governo nel caos, battuto per un voto sull'approvazione del rendiconto generale, Berlusconi arrabbiato con Tremonti, Scajolo e Bossi che non erano in aula al momento del voto, il PDL chiede ora un voto di fiducia per verificare la tenuta della maggioranza. Rinviato di alcune settimane il disegno di legge sulle intercettazioni. La crisi peggiora, bisogna agire subito. Il governatore uscente della Banca Centrale Europea lancia l'allarme davanti all'Europarlamento. Oggi la Commissione presenta alcune proposte per le banche, ma intanto il Parlamento Slovacco ha bocciato l'ampliamento del fondo Salva Stati. Dopo quasi 2000 giorni nelle mani di Amassi, il soldato israeliano Jilad Shalit potrà tornare a casa. Raggiunto l'accordo tra il gruppo islamico, che aveva rapito il soldato al confine con la striscia di Gaza, e Tel Aviv, che ha accettato di liberare un migliaio di detenuti palestinesi. E per lo sport e il calcio, buona prova della nazionale italiana. Nell'ultimo appuntamento del girone di qualificazione agli europei, gli azzurri di Prandelli battono l'Irlanda del Nord per 3-0. Due le reti realizzate da Cassano, che poi annuncia sono stanco, anche io mi ritiro tra tre anni. Buongiorno, benvenuti alla prima edizione della giornata del telegiornale della 7. Dunque, oggi pomeriggio, il premier Berlusconi ha deciso, interverrà in aula alla Camera per chiedere la fiducia dopo il voto ieri, con la maggioranza battuta sul bilancio dello Stato. La decisione è stata presa questa notte al termine di un vertice convocato d'urgenza, vertice appunto della maggioranza. Berlusconi che prova a ridimensionare il passo falso, ma le opposizioni insistono chiedendo le dimissioni. Sentiamo il servizio di Franco Rina. Il governo chiederà la fiducia sulle dichiarazioni politiche che il Presidente del Consiglio farà alle Camere. Lo ha deciso un vertice di maggioranza, che si è tenuto ieri in tarta serata, Prasso Grazioli. Nel corso della stessa riunione il premier ha anche ripetuto che il governo andrà avanti e che quanto accaduto alla Camera è stato un incidente parlamentare. Ecco la difficile giornata di ieri a Montecitorio per PDL e Lega. Governo e maggioranza vanno sotto sull'articolo 1 del rendiconto generale dello Stato, ovvero l'assestamento di bilancio. 290 sì e 290 no, che per effetto del regolamento di Montecitorio vuol dire bocciatura. In aula anche il premier con tanti ministri, ma non è bastato al centrodestra per far passare il provvedimento. È un problema tecnico che si può risolvere, il primo commento di Berlusconi dopo il voto, che comunque non è riuscito a celare il suo nervosismo in direzione di Tremonti. Il ministro infatti è tra i responsabili del passofasso a Montecitorio, è arrivato con qualche secondo di ritardo. Quando la votazione era già chiusa, non c'è stata nessuna motivazione politica, si difende. Ma contro di lui è rivolta nel PDL. Anche Bossi non ha votato perché è impegnato a parlare con i giornalisti. Eppure il centrodestra era precettato. Per soli due voti, mezz'ora prima, era riuscito a far passare il documento economico-finanziario, contando sulla presenza di tutto il governo, a compensare 30 assenti della maggioranza, 20 assenze tra i banchi delle opposizioni. L'elenco degli assenti ha una composizione quantomeno sospetta. Tra i banchi della Lega mancano in quattro. E tra loro Roberto Maroni, sette gli assenti del trappello di popolo e territorio, gli ex responsabili. Ancora non rispondono all'appello, pionati e scilipoti. E sono 17 i banchi del PDL, vuoti. A partire da quello di Scaiola. E tra i suoi fedelissimi non ci sono Giustina Destro e Piero Testoni. Alla fine Cicchitto ammette io credo che il governo debba rendersi disponibile ad un confronto politico e a verificare se abbia o meno la fiducia in Parlamento. E se Bossi manda segnali rassicuranti a Berlusconi, il governo non verrà giù. Le opposizioni gridano dimissioni, dimissioni. È esorto nel premio ad assalire al Quirinale. Lo stesso Fini attacca. È stata una votazione con evidenti implicazioni politiche. Come dire, non un semplice incidente di percorso, ma il segno che il governo è al capolinea. E dopo il voto di ieri, che come avete sentito con la maggioranza che è andata sotto sul rendiconto, il bilancio dello Stato, maggioranza che non se la sente di rischiare, fa un nuovo passo indietro anche sul decreto intercettazioni. Il testo sarà quindi rinviato, lo ha detto il capogruppo PDL alla Camera Cicchitto. Anche il Ministro della Giustizia, Nitto Palma, ha espresso i suoi dubbi sul testo. Testo bocciato decisamente dalle opposizioni e anche dalla Lega. La maggioranza andrà avanti invece sulla prescrizione breve. La Commissione Giustizia dovrebbe approvare il disegno di legge entro oggi. Ed è stata una giornata caotica, lo abbiamo detto più volte, per il Governo complicata dalla decisione, sempre ieri, della Corte dei Conti di bocciare la riforma del fisco per mancanza di copertura. Il servizio è di Patrizia Viola. La riforma del fisco non ha copertura. La bocciatura arriva dal Presidente della Corte dei Conti durante un'audizione alla Commissione Finanza della Camera. Non ha copertura, sostengono i magistrati contabili, anche perché parte delle entrate è stata usata dal decreto di agosto. Sul cosa fare l'indicazione data dal Presidente Giampaolino è quella di tassare beni personali e reali, praticamente la tanto discussa patrimoniale, evitando i tagli lineari alle agevolazioni che potrebbero innescare processi recessivi. Nel disegno di legge il taglio delle agevolazioni fiscali previsto, a regime circa 20 miliardi, per la Corte è sovrastimato. In pratica, secondo l'analisi contabile, Tremonti pensa di incassare più soldi di quelli che risultano nelle tabelle della magistratura contabile. Il fisco, poi, non deve insistere sul lavoro e sulle imprese, non deve colpire sempre i ceti sociali più deboli. L'Istituto rivolge critiche severe al gigantesco tasso di evasione fiscale, che alimenta laceranti conflitti distributivi, tradotto, l'eterna forbice tra chi paga le tasse e chi le evade. Sul condono, la Corte non si pronuncia direttamente, ma il giudizio è chiaro. Per il Presidente Giampaolino si tratta di una scelta politica, soprattutto per quanto riguarda il comportamento dei contribuenti, agevolando chi non paga le tasse, sperando che prima o poi un condono arrivi a metterci una pezza. E allora, tra poco, la riepertura dei mercati, per vedere anche come reagiranno all'allarme lanciato dal numero uno uscente della Banca Centrale Europea, Trisce, e poi alla decisione della Slovacchia di bocciare il Fondo Salva Stati. Sentiamo il servizio di Simone Costa. È un grido d'allarme quello lanciato da Jean-Claude Trisce, Presidente uscente della BCE, in audizione al Parlamento Europeo. Il vecchio continente deve agire in fretta, prendere il toro per le corna e affrontare il moloch di una crisi, dice Trisce, che ormai è diventata sistemica. Il numero uno della Banca Centrale Europea chiede quindi di velocizzare tutte le operazioni, snellendo anche i tempi per l'aumento di capitale del Fondo Salva Stati, che deve essere rimpolpato direttamente dai singoli stati e non attraverso la Banca Centrale. Il fondo, dice Trisce, ha i suoi doveri, cioè il mantenimento della stabilità dei prezzi e i soldi del fondo serviranno per ricapitalizzare le banche. Ma dell'appello alla celerità di Trisce sembra non averne fatto tesoro la Slovacchia, chiamata ieri come ultimo paese dell'Eurozona a votare per il rafforzamento del fondo Salva Stati. Nella serata è arrivato un inaspettato no da Bratislava che ha fatto vacillare le borse, una risposta che si trasformerà in un sì tra qualche giorno, ma che non cambia la sostanza, ribadita ieri da Trisce. Per arginare questa crisi servono decisioni chiare in tempi rapidi. E adesso il fronte delle inchieste con le parole durissime del capo della Procura di Napoli, Lepore, che si schiera decisamente contro la decisione del Ministro della Giustizia, Nitto Palma, di inviare gli ispettori nelle procure che indagano sulle feste, nelle residenze del Premier. Ci vogliono delegittimare le parole di Lepore. Sentiamo il servizio di Rossella Matera. Gli ispettori che il Ministro della Giustizia, Nitto Palma, ha deciso di inviare alle procure di Napoli e Bari per accertare eventuali irregolarità delle inchieste sulle escort che coinvolgono il Premier potrebbero arrivare già all'inizio della prossima settimana. I controlli e gli accertamenti riguarderanno più punti. A Napoli la fuga di notizie con la pubblicazione di intercettazioni e atti che erano coperti da segreto istruttorio. L'atto di citazione dello stesso Premier a comparire come persona informata sui fatti ed infine la competenza territoriale delle indagini. Il pool di ispettori che andrà alla procura di Bari invece dovrà indagare sui presunti ritardi nella conduzione dell'inchiesta sulle escort portate da Tarantini a casa di Berlusconi. Irregolarità attribuite dall'ex sostituto procuratore scelsi al procuratore Antonio Laudati. Il procuratore di Napoli, Lepore, ha già parlato di delegittimazione. Infine il CSM sta valutando l'ipotesi di rievocare il collocamento fuori ruolo al capo dell'ispettorato del Ministero della Giustizia, Arcibaldo Miller. In questo caso Miller dovrebbe rinunciare all'incarico ministeriale e tornare magistrato semplice. Miller, che da PM ha trascorso a Napoli 20 anni, compare anche nelle carte delle inchieste che coinvolgono Carboni, Bisignani e Papa. È durata poco più di 24 ore la prigionia dei marinai della Monte Cristo, il mercantile italiano sequestrato dai pirati somali lunedì mattina. È stato infatti un commando inglese a liberare l'equipaggio che si era chiuso dentro la sala comandi della nave, completamente blindata. Il comandante aveva dato l'ordine di saldare la porta e poi aveva lanciato l'allarme raccolto dalla Marina Italiana e rilanciato ad un incrociatore americano e ad una unità inglese che navigavano nella zona per avvertire i soccorritori che l'equipaggio non correva a pericolo perché al sicuro, appunto, nella camera blindata, il comandante ha inviato un messaggio in bottiglia con l'ok all'arrembaggio. Ed invece dura da più di otto mesi il sequestro degli uomini della petroliera Savina Kailin. Li uccideranno, salvateli. È l'accorato appello dei loro familiari. E a più di cinque anni dal rapimento il soldato israeliano Gilad Shalit potrebbe tornare libere o con la mediazione dell'Egitto. Infatti, Israele avrebbe trovato un accordo con gli integralisti di Hamas che hanno appunto in mano Shalit. Sentiamo i termini di questo accordo nel servizio di Vincenza Dornetta. E a un punto di svolta e probabilmente a un passo da una felice conclusione la drammatica vicenda del sequestro di Gilad Shalit. Cinque anni e cinque mesi dopo il soldato israeliano sequestrato da un commando palestinese al confine con la striscia di Gaza si prepara a tornare a casa e con lui si preparano a compiere il percorso inverso Israele-Gaza oltre mille prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. L'accordo tra le due parti è avvenuto al Cairo grazie alla mediazione delle autorità egiziane e di un negoziatore tedesco. La liberazione dei palestinesi avverrà in due momenti diversi. I primi 450 lasceranno le prigioni israeliane quando Shalit entrerà in Egitto gli altri invece saranno liberati quando finalmente Shalit oggi 25enne metterà piede in Israele. Tutto avverrà fra pochi giorni ma fino a quando non si concluderà lo scambio bisognerà tenere il fiato sospeso. Già in passato Shalit sembrava sul punto di poter tornare a casa ma poi all'ultimo momento puntualmente tutto saltava. In questi anni Shalit è rimasto in assoluto isolamento nascosto da Hamas nella rete di tunnel sotterranei che attraversa la striscia di Gaza anni durante i quali la famiglia del caporale catturato poco più che ventenne si è impegnata in una mobilitazione ininterrotta per favorire la trattativa e la liberazione del ragazzo anni in cui Gaza è rimasta isolata da un embargo imposto da Israele che a cavallo tra il 2008 e il 2009 scatenò su Gaza l'operazione Piombo Fuso un'offensiva militare che puntava anche alla liberazione di Shalit quella liberazione che stavolta sembra davvero a un passo L'ex premier ucraina Giulia Timoshenko è stata condannata a sette anni di carcere per abuso di potere riguardo ai contratti per la fornitura di gas siglati con Mosca nel 2009 la Timoshenko si è difesa dicendosi vittima di una congiura politica messa in atto dal suo rivale il presidente Viktor Yanukovic in vista delle prossime elezioni motivazioni condivise dall'Unione Europea che annuncia possibili ripercussioni nelle relazioni con Kiev la Russia ha dichiarato che la sentenza potrebbe compromettere le negoziazioni con l'Europa a causa della riduzione del prezzo del gas voluto appunto da Kiev la Timoshenko ha fatto sapere che ricorrerà a tutti i gradi di giudizio fino alla Corte di Giustizia Europea e adesso negli Stati Uniti progettavano un nuovo attacco nel cuore dell'America appunto questa volta nel mirino dei terroristi c'era l'ambasciatore saudita con plotto terroristico sventato durissima l'accusa che arriva direttamente dalla Casa Bianca che dice che dietro al piano ci sarebbe appunto l'Iran che l'Iran respinge ogni accusa sentiamo il servizio di Francesca Fanuele eccolo qui l'uomo che avrebbe tentato la carta dell'alleanza diabolica tra terrorismo iraniano e narcos messicani per colpire i comuni nemici Stati Uniti e Arabia Saudita si chiama Mansur Ababziara un cittadino americano di origini iraniane stava cercando da mesi di coinvolgere i narcotrafficanti in un attentato contro l'ambasciatore saudita Washington ma non solo anche in attacchi alle ambasciate israeliane e saudita in Argentina con penso promesso un milione e mezzo di dollari sulla sua strada però è inciampato contro agenti dell'FBI che sotto copertura lo hanno attirato in una trappola e incastrato fino a portarlo alla confessione in carcere non c'è alcun dubbio che questo complotto sia stato organizzato sponsorizzato e diretto dall'Iran accusato il procuratore generale americano Eric Calder costituisce una gravissima violazione delle leggi internazionali quanto basta per far salire le stelle la tensione tra Washington e Tehran se ce ne fosse ancora bisogno le autorità iraniane infatti negano completamente ogni addebito accusano Washington di propaganda guerra fondai e parlano di accuse precostituite ma il segretario di stato americano Clinton coglie l'occasione per un nuovo attacco questa volta ha sottolineato la Clinton l'Iran ha passato davvero il segno il complotto creerà una reazione internazionale che isolerà ancora di più il paese il timore è che la vicenda possa avere contraccolpi davvero pesanti il presidente Obama ha messo immediatamente al corrente della situazione in giugno quando il presunto complotto è stato scoperto è stato molto chiaro si tratta di una grave violazione della nostra legge ha detto continueremo a fare di tutto per proteggere i nostri diplomatici e adesso lo sport perché si è concluso davvero in modo convincente il cammino dell'Italia verso gli europei potremmo dire trionfale ma insomma ci racconta tutto in studio Paolo Pellacani buongiorno Paolo allora sì una nazionale che vince e convince nell'ultima uscita 3 a 0 sull'Irlanda del nord all'insegna di Antonio Cassano una doppietta per lui Cassano che poi annuncia sono stanco della routine sono stanco delle polemiche dopo il mondiale fra tre anni mi ritiro staremo a vedere intanto comunque Prandelli si gode questa nazionale ha chiuso il girone di qualificazione imbattuto e con la miglior difesa questo significa che comunque andiamo all'europeo da protagonisti Francesco Inzi quale può essere il ruolo degli azzurri all'europeo con un biglietto da visita di riguardo 26 punti 20 gol segnati e due subiti archiviamo il girone senza eccessiva euforia ma consapevoli di una nazionale che non si accontenta contro la modesta Irlanda del nord abbiamo avuto la conferma che il verbo di Prandelli è ascoltato dai calciatori anche quando c'è il rischio di mollare qualcosa sul piano mentale perché praticamente giochi un allenamento su qualche cao di tensione ci ha messo le sue mani protettive a Buffon poi c'è stata la ricerca della rete per dare sostanza alla supremazia proprio come ha chiesto il CT con un avversario che si chiude non è un'operazione semplice aggredire l'aria con la palla a terra senza una punta pura però quando hai uno che calcia come Cassano va bene anche il lancio delizioso di De Rossi Antonio mette il suo marchio con la doppietta di Pescara e ringrazia Prandelli artefice del rilancio quando soffriva di anonimato nel Milan con la posizione in centroavanti atipico è stato Giovinco a cercare i movimenti intorno a lui all'insegna dell'agilità il ragazzo torinese ha mostrato la grinta giusta senza timore per i ruvidi irlandesi ed appare sempre più convinto del ruolo di seconda punta sicuramente una promozione al debutto da titolare un'altra possibilità per il nostro attacco con la formula dei piccoletti è importante essere accompagnati dai centrocampisti cercando di non intasare gli spazi ma questo va a parte dei rischi calcolati quando c'è stata l'occasione di affondare come nel raddoppio Aquilani ha servito un pallone d'oro a Cassano che con una carezza chirurgica ha realizzato il nono gol azzurro raggiungendo il vecchio amico Totti il fatto di aver scelto un progetto che predilige la tecnica non significa evitare le conclusioni da lontano quando ci sono specialisti come Aquilani e Montolivo e proprio il voler insistere fino alla fine trovando 3 a 0 con una buona dose di fortuna è un dato che induce all'ottimismo l'ingresso del debutante Osvaldo come Oriundo è un altro aspetto intrigante per la duttilità che può essere un completamento davanti l'anno degli azzurri si chiuderà in Polonia l'11 novembre e con l'altro amichevole il 15 a Roma contro l'Uruguay e adesso vediamo come è andata per le altre nazionali scese in campo nell'ultimo turno di qualificazione è andata bene alla Francia che anche faticando comunque ha ottenuto il passaggio Euro 2012 il Portogallo invece perde ed è costretto agli spareggi la Slovenia invece condanna la Serbia vediamo i gol con Bruno Vesica uno stad de France stracolmo per sospingere la Francia alla ricerca del punto qualificazione ma contro una Bosnia già matematicamente seconda nel girone e quindi certa dell'accesso ai playoff i blessi sono complicati la vita subendo al quarantesimo la rete realizzata da Giechi con un imparabile interno destro per fortuna che per la Francia c'era un certo Nasri che dopo aver colpito i legni della porta avversaria è andato a guadagnarsi rigore da lui stesso trasformato e che sospinge la sua squadra ai prossimi europei si sono decise invece nel confronto diretto di Copenaghen tra Danimarca e Portogallo le sorti del gruppo H netto al di là del 2-1 finale il successo dei padroni di casa che si sono visti anche annullare una rete dall'arbitro Rizzoli in vantaggio con un tiro di Kron Dele dueiato da un difensore avversario i danesi hanno poi raddoppiato al diciottesimo della ripresa grazie al piattone di Bendina inutine in pieno recupero il bel calcio di punizione con cui Cristiano Ronaldo fissa il risultato ma il fisco finale la festa è anche per il Portogallo che riesce a qualificarsi grazie alla miglior differenza reti nei confronti della Norvegia nel gruppo G dominato dall'Inghilterra inutile invece il successo della Svizzera su un Montenegro già certo dell'accesso ai play-off il vettici in vantaggio al sesto della ripresa con Derdiok complice l'uscita a vuoto del portiere avversario il raddoppio invece lo sigla lo juventino Lichsteiner con un bel diagonale verdetti già emessi anche nel girone F Grecia qualificata e Croazia ai play-off che comunque non delude il suo pubblico regolando la Lettonia con un classico 2-0 il gol del vantaggio lo realizza al ventunesimo della ripresa Edoardo con un colpo di testa sotto misura stessa dinamica il raddoppio sei minuti più tardi con l'incornata di Manzucic drammatico invece l'esito della sfida di Maribor dove una Slovenia fuori dai giochi nel gruppo vinto dall'Italia piega la Serbia ancora in corsa è un improbabile spiovente di Vrtsic nel recupero del primo tempo a regalare il vantaggio ai padroni di casa gli ospiti si procurano però nella ripresa la grande chance per il gol qualificazione ma sul rigore di Capitan Vigic è il portierone dell'Udinese Samir Andanovic a impedire alla Serbia l'accesso ai play-off a tutto vantaggio dell'Estonia che ringrazia Allora vediamo il quadro completo della situazione delle squadre qualificate di quelle che invece andranno a giocare gli spareggi per Euro 2012 erano già qualificate prima di questo turno Germania, Italia, Olanda, Inghilterra e Spagna ieri sera nell'ultimo turno della fase a Gironi delle qualificazioni hanno invece staccato il biglietto per l'Europeo Grecia, Russia, Danimarca e Svezia Svezia qualificata come miglior seconda vanno invece gli spareggi la Turchia, l'Irlanda l'Estonia, la Bosnia Croazia, Montenegro Portogallo e Repubblica Ceca Chiudiamo con una bella notizia che ci arriva dalla scherma da Catania nell'individuale nel fioretto femminile Valentina Dezzali a 37 anni si è aggiudicata il sesto titolo mondiale battendo la compagna di squadra Elisa Di Francisca campionessa uscente sale sul podio più alto anche Aldo Montano il campione olimpico di Atene 2004 al primo titolo iridato della carriera è tutto a te Paolo Sì noi invece chiudiamo prima con una notizia di cronaca destinata probabilmente a scatenare polemiche perché con l'accusa di violenza privata aggravata arbitraria invasione occupazione di aziende sabotaggio interruzione di servizio pubblico la DIGOS della questura di Brindisi ha arrestato 18 componenti del comitato dei disoccupati di Brindisi la vicenda risale più o meno a marzo il neonato comitato occupò la sede della Monteco la società che compie il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani appunto a Brindisi in mattinata chiarimenti rispetto a questa vicenda gli aggiornamenti li potete seguire anche sul sito tgla7.it prossima edizione telegiornale ve lo ricordo alle 13.30 adesso invece dopo la sigla torniamo a parlare dei temi caldi caldissimi della politica conduce omnibus il dibattito Andrea Pancani buon proseguimento grazie a tutti